ciao 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 a tutti dunque ultimamente qua in germania c'è un clima fantastico proprio c'è il cielo grigio tutti i santi giorni che aiuta la depressione a peggiorare infatti sono già inguaiata comunque sto ancora cercando lavoro quello che volevo dirvi questo io mi sono rotta le palle di certe situazioni e quindi probabilmente sono fortunata nel senso che nessuno mi segue però nel momento in cui qualcuno inizierà a seguirmi inizierò ad essere molto sfortunata perché mi prenderò un sacco di insulti ma pazienza mi sono rotti i coglioni che le persone continuano a pensare che la germania sia un paradiso ma anche persone che ci sono vissute qui un anno io ho conosciuto una signora che ha vissuto qua un anno perfettamente convinta che l'agenzia del lavoro fosse il paradiso ti avrebbe aiutato con tutto e io continuavo a dire no non è così lo dicono i medi italiani ma non è così l'agenzia del lavoro è una merda totale bisogna dirlo bisogna dirlo proprio tranquillamente bisogna dirlo facendo un respiro proprio è una merda perché ha cercato di fregarmi io dovevo fare il riconoscimento degli studi non me l'hanno detto quindi smettiamola di pensare che la germania è il paradiso sia il paradiso adesso sbaglio i congiunti quindi mi fanno mi tagliano la gola adesso quindi perfettamente va tutto perfettamente bene certo non è così e smettiamola di dire tutta colpa tubo alessandra no perché io ho studiato fino a livello c1 al tedesco non è che sono imbecille continuo a studiarlo quando non ho i soldi da una parte li prendo dall'altra e continuo ad andare avanti e ho cercato anche di fare mille lavoretti per cercare di andare avanti non è che sono proprio un idiota infatti anche con quello delle agenzie del lavoro mi sono arrabbiata e gli ho proprio detto guardi che io non sono imbecile e non gliel'ho mandata a dire proprio io le dico le cose e boom e quindi cioè se se venite in germania sappiate che non siete i benvenuti cioè questa è la mia esperienza per me non siamo benvenuti assolutamente e ci sono dei nemici cioè non è che voglio essere drammatico che cosa perché c'è gente che mi ha chiamato sceise italiana italiana di merda quindi non è che proprio nel paradiso ne loro sono santi e verginelli e parliamoci chiaro con questo concluso lapidatemi sì che mi piace tanto